I diritti morali sono un specifico tipo di diritti del diritto d'autore italiano e del diritto d'autore figlio appunto del modello francese, tutelano la personalità creativa dell'autore, quindi sono dei diritti che appunto creano un legame morale reputazionale tra l'autore e le sue opere. Questi diritti sono imprescrittibili e incedibili, quindi vuol dire che l'autore non se ne può liberare e alla sua morte questi diritti vengono esercitati dagli eredi teoricamente all'infinito e quindi sono dei diritti che creano non pochi problemi dal punto di vista giuridico, entrano in gioco non in tanti casi, se andiamo a vedere gli articoli 20 e seguenti della legge sul diritto d'autore ci sono due o tre casi e da lì possiamo capire qual è la loro portata. Grazie 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 Grazie